Senta per lei, Santa Teresa di Calcutta. Alle 15 di oggi per la seconda volta la comunità di Calcinelli di Colli al Metauro si è stretta e ritrovata, dopo la funzione delle 10.30, all'interno della chiesa di Santa Croce per salutare per l'ultima volta Sonia Farris, la seconda vittima dell'incidente mortale della mattina dell'Epifania lungo l'Arceviese. Una tragedia che ha sconvolto non solo le famiglie delle due amiche accomunate dallo stesso tragico destino, ma l'intera comunità ha tanto da spingere il sindaco a proclamare per oggi il lutto cittadino in un forte abbraccio collettivo a sostegno dei familiari delle due donne. Sostegno e solidarietà fatte sentire, dopo la funzione di stamattina per Elisa Rondina, anche per Sonia con una chiesa che non ha potuto contenere tutti coloro che han voluto esserci. Alle 15 in punto il feretro di Sonia è entrato in chiesa tra i volti, colmi di commozione, fazzoletti tra le mani con i quali poi ci si è fatto il segno della croce. Don Giuseppe Monaco, che ha ufficiato anche questo rito, ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia nella parola di Cristo, la quale è l'unica che può farci comprendere questi aspetti così difficili e dolorosi del nostro passaggio terreno. Don Giuseppe invita tutti dal pulpito poi ad avere un cuore di carne per aprirci alla parola del Signore e non un cuore di pietra indurito dalla sfiducia e dallo scetticismo. Conclude poi la sua omelia con un ricordo personale di Sonia per far comprendere quanto un cuore di carne che guarda all'altro sia importante e come Sonia ce lo aveva. Un giorno, dice Don Giuseppe, sentì suonare alla mia porta. Era lei, dissi, vuoi farmi i capelli per caso, in modo scherzoso? E lei, no Don Pepe, mi disse, devo parlarti di una persona in difficoltà. Ecco, questo era il suo essere, questo era il suo cuore, il suo cuore di carne, un cuore non racchiuso su se stesso ma aperto e attento agli altri. Dopo questo toccante ricordo, ognuno dei presenti si è chiuso nel proprio ricordo personale di Sonia e in un silenzio che ha colmato tutta la chiesa. Anche le sue amiche, poi al termine della funzione religiosa, hanno voluto parlare di lei in un ricordo condiviso anche in nome della sua amica di ballo e con cui ha condiviso gli ultimi attimi della sua vita. Poi il feretro ha lasciato il sagrato della chiesa per essere tumulato nel cimitero cittadino.